ciao bentornato sul canale di stats for bets nel video di oggi andiamo a studiare l'europa league le partite che ci saranno domani roma atalanta e milan quelle che ci interessano maggiormente stasera ovviamente c'è il big match tra atletico e inter su telegram trovi anche una maggiorata dedicata a questa partita anzi in realtà due maggiorate dedicate entrambe a questa partita sono leggermente diverse tra loro una un po più facile da prendere una è leggermente più difficile ma comunque sono due quote 6 prendibili in maniera abbastanza facile ieri ad esempio purtroppo per il napoli la quota maggiorata sul barcellona è stata presa dopo 16 minuti perché la quota era gol del barcellona quindi solo barcellona segna sì a quota 6 dopo 16 minuti già era stata presa quindi anche queste sull'inter non sono particolarmente difficili può essere una buona occasione per raccimolare qualche bonus le trovate direttamente sul mio canale telegram andiamo intanto a vederci questa europa league ovviamente prima di cominciare ricordati di seguirmi e di lasciare un like al video così mi aiuti a far crescere il canale allora ci abbiamo slavia praga milan atalanta sporting brighton roma cominciamo da brighton roma perché ce la togliamo velocemente qui la cosa a cui fare attenzione è il ragionamento dei 180 minuti proprio nei video di champions se li hai visti avrei visto che mi ha fregato totalmente la partita arsenal porto perché avevo analizzato l'over 2.5 e c'erano due opzioni su come potesse andare quella partita l'arsenal segna e poi continua ad aggredire cercando di fare il secondo gol per chiuderla nei 90 minuti oppure l'arsenal segna ci prova un altro pochino nel secondo tempo ma se poi vede che il porto si chiude bene gli ultimi 20 minuti nessuna delle due si mette a rischiare nel porto di pareggiare nell'arsenal di scoprirsi per fare il 2 a 0 e una partita che aveva tutte le caratteristiche per poter finire over finisce in realtà under qui c'è una situazione molto simile perché veniamo da un 4 a 0 abbiamo una squadra che deve sì cercare di ribaltare la situazione però io credo che tu sei consapevole che il 4 a 0 nel 95 per cento dei casi non lo ribalti quindi già quello c'è un aspetto motivazionale sul brighton sulla roma anche se subisci uno o due gol non è che hai l'ansia di doverli recuperare quindi continuerai a scoprirti e rischiando di prendere il terzo quindi anche la roma ha i suoi calcoli il brighton c'è i suoi calcoli la roma c'è i suoi calcoli per questo motivo sarei più portato proprio ad evitarla questa partita in un'eventuale schedina mentre all'andata puntai l'uno secco della roma qui non sono tanto convinto né della vittoria dell'uno né della vittoria dell'altro ovviamente le quote scendono sull'over è una partita che dovrebbe regalare spettacolo come in teoria l'ha regalato all'andata però diventa più più rischioso in virtù dei 180 minuti l'unico esito che ha senso secondo me è il gol sempre in maniera però cautelata cioè sempre tenendo conto di questi 180 minuti perché il brighton sicuramente attaccherà e cercherà di sbloccarla per darsi una chance o comunque anche per essere eliminato ma non facendo zero gol la roma sfrutterà i diciamo le ripartenze il fatto che il brighton è costretto a sbilanciarsi per per segnare quindi l'esito gol forse a 1 e 62 ha il suo senso però guardiamo anche lo status che è giallo quindi neanche lo favorisce in tutto e per tutto ci sono i numeri però 58 per cento sta sotto al 60 significa che 42 per cento 41.6 per cento di queste partite non finisce esito gol quindi insomma è abbastanza equilibrato e così come mi ha fregato su alzano al porto il ragionamento dei 180 minuti non vorrei che fregasse anche su brighton roma diverso è il invece il ragionamento che possiamo fare su slavia praga a milan uno perché lo slava lo slavia abbiamo comunque visto in casa del milan capace di fare due gol di cui uno anche in dieci uomini non credo che lo slavia ribalterà il risultato quindi non credo che possa vincere con due gol di margini sarebbe veramente clamoroso se il milan si facesse recuperare però potrebbe avere senso in questo caso il gol perché dallo slavia un gol in casa me lo aspetto il milan stessa dinamica della roma partirà in contropiede però non ha quattro gol di margini cioè mentre la roma sul 2 a 0 potrebbe continuare a gestire senza necessariamente dover attaccare se il milan subisce un gol non puoi pensare solo difenderti perché comunque col di margine sono solo due quindi questo un minimo di milan più propositivo rispetto alla roma considerando anche che diciamo lo slavia teoricamente un po meno forte del brighton me lo posso immaginare quindi anche in questo caso l'esito goal ha una sua valutazione che può essere accettata e che può essere perseguibile tra i due se dovessi sceglierne uno solo tra i due sceglierei più questo che non quello della roma perché comunque veramente un 4 a 0 mentalmente è difficile da cancellare per l'una e per l'altra squadra mentre qui minimo la partita un minimo è più aperta però vanno fatte le valutazioni del caso anche perché abbiamo visto in diverse partite che si è vero entriamo nella fase finale ottavi di finale quindi diciamo tutti vogliono andare avanti però per esempio il bayern leverkusen si è svegliato a 15 minuti dalla fine col carabag stava perdendo 2 a 0 poi l'ha portata sul 2 a 2 quindi qualche sorpresa nella dinamica di europa league si presenta sempre su questa partita preferirei spostare la sorpresa sul fatto che lo slavia fraccia un gol che il milan non resti a zero perché comunque se stai uno a zero e te la rischi fino al novantesimo che puoi prendere il 2 e poi andare ai supplementari mi sembra esagerato per questo l'eseo gol mi dà più opportunità qui è il match probabilmente più normale tra virgolette cioè meno influenzato dal risultato dell'andata perché all'andata hanno fatto 1 a 1 l'atalanta è stata sfortunata perché ha preso 2 o 3 pali e comunque ha dimostrato una leggera superiorità rispetto allo sporting qui l'unica dinamica che può entrare in diciamo in campo sui 180 minuti è quello che se la partita non si apre subito se la partita non si sblocca diciamo intorno ai primi 70 minuti un po come è successo proprio in arsenal porto continuo a rimandare a quella partita arsenal porto perché comunque quando faccio un errore mi piace rianalizzarlo per capire dove l'ho sbagliato e in questo caso l'ho sbagliato proprio sulla valutazione ho dato poco risalto ai 180 minuti e al fatto che l'arsenal sul 1 a 0 potreva accettare di andare avanti anche nei supplementari qui una delle due deve vincere per forza per passare quindi se negli ultimi 20 minuti stai ancora su una situazione di pareggio difficilmente le squadre spingeranno per vincerla nella fase finale però sulla 1 x 2 al 90 minuto io credo che la partita si sposti sull'atalanta non rischierei l'uno secco proprio perché non c'è la necessità diciamo a tutti i costi di vincerla quindi se poi vedi che non sfondi non è che al 85esimo metti sei persone a attaccare quindi magari all'85esimo accetti di andare avanti ai supplementari però la dinamica si sposta sulla 1 x 2 per per come mi posso immaginare vedendo i numeri che ci abbiamo davanti si sposta sulla 1 x 2 con un buon 75 per cento sull'atalanta 25 per cento per le CO2 non è bassissimo però non è ancora un trend che puoi dire mi aspetto la la vittoria dello sporting sarei molto sorpreso della vittoria dello sporting obiettivamente le tre italiane in europa league secondo me le troveremo tutte e tre nella fase successiva spero che a roma non faccia cataclismi ma credo che non ne facciano neanche il midan l'atalanta è quella che se la rischia di più ma la fortuna di giocarla in casa all'andata ha già dimostrato una secondo me una tenuta del campo migliore quindi mi aspetto che che passi comunque l'atalanta chiudiamo con la conference dove c'è la fiorentina qui il gol di vantaggio è solo uno ed è probabilmente la partita su cui non mi fido per niente di questo favoritismo che i bookmaker danno alla fiorentina e se vi ricordate il video precedente c'era una situazione simile perché la fiorentina era intorno a 1,50 e anche lì vi dissi a me non mi convince questo maccabi così rinunciatario poi ha vinto al 94esimo hai un gol di margine però non andrei assolutamente sulla versione della 1x2 in questa partita mentre più rischioso ma più attinente quantomeno a quello che abbiamo visto nella gara di andata secondo me sono gli assiti dei gol in questo momento i bookmaker stanno favorendo il no gol quindi si spavorisce il maccabi ma una... si spavorisce il maccabi perché ovviamente le quote sono tutte spostate sull'1 nella 1x2 ma una squadra che ti ha già fatto 3 gol perché la dovresti spavorire sull'esio gol onestamente non lo comprendo, non lo capisco la partita va sull'over e sul no gol non ha senso per come sono abituato a studiare io cioè che tutti e tre gli esiti sono collegati tra loro quindi se la fiorentina è super favorita il no gol è super favorito o comunque sta andando verso il favoritismo non mi aspetto un over perché la fiorentina ha già il suo gol di margine gli basterebbe anche un ulteriore gol uno nei due di vantaggio ti fermi, ti metti a gestire quindi poi quest'over non si verifica perciò visto che finora abbiamo fatto un filotto di esiti gol qui andrei a selezionare anche se è statistica più bassa e quota molto più alta anche in questo caso l'esito gol come esito più rischioso però né quello della Roma né questo che è così un po' più alto un po' più rischioso li inserirei sulla schedina il vero esito gol che secondo me ha senso è quello della partita tra Slavia e Milan perché col fatto che giocano in casa insomma il ragionamento fatto pochi istanti fa sulla partita del Milan quello lì è quello tra i tre che mi sembra più probabile poi anche in questo caso credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per passare il turno però ripeto non mi fiderei dell'esito 1 anche perché ha pagato molto poco e quindi non avrebbe molto senso per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti